Ragazzi, vi presento un altro episodio del mio videogioco preferito, oltre a Naruto Storm Ninja. Vi presento... Paw Patrol, il film Adventure City Chiama. Non ho visto il film, però ho il gioco. Il disastro del super treno, facciamolo. A rapporto, cuccioli! Ehi, cuccioli! A quanto pare è sorto un altro problema. Devi alzare un pochino il volume. Meglio così. Una terribile notizia ha scosso l'intera città. Le vibrazioni del super treno di Handinger hanno causato delle crepe al Grand Hotel. Chase, toccherà a te guidare Rubble attraverso la città per farlo arrivare il più in fretta possibile. Rubble, quando arriverai all'hotel, dovrai scomberare tutte le macerie dalla strada. A lavoro, Paw Patrol! Chase! Pau Patrol, il film Adventure City Chiama. Adventure. Adventure. Avventura. Amo la Paw Patrol Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Skye, Zuma e Liberty Wow! Le vibrazioni del supercreno hanno combinato un bel pasticcio! Amo la Become Bbook Grazie a tutti. 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 Vi devo confessare che questo livello l'ho già fatto, ma lo volevo registrare. Grazie a tutti. 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 e colpisci. Grazie a tutti. Stanchi.